Carol, hai tutte le ragioni di avercela con me, ma tu mi piaci molto e vorrai fare la pace e farei qualunque cosa per farmi perdonare la storia di ieri sera. Ti do un'altra possibilità. Oh, grazie. Ricky! Ciao, Ralf. Ricky! Che cosa fai qui? Stasera c'è la partita di campionato di basket e è stata spostata alle 7.30. Sì, ma ho appena detto a Carol... Ricky, tu non puoi mancare, hanno bisogno di te. Questa è una partita di campionato. Basta, Ralf. Tu sei l'unico pivot che abbiamo. Hanno bisogno di me. Mi dispiace, devo andare. Lo so, è la seconda sera che me lo ripeti. Ehi, un momento, ma che fai? Le tengo compagnia per te. Anche per te c'è la partita. Io sto in panchina e lì ce ne sono tanti. Aspetta, Ralf. Ciao, a più tardi. A più tardi? A dopo la partita. Ricky, e sai qual è il tuo problema? Se lo sai, dimmelo, Fonzi. Sei un bravo ragazzo. E i bravi ragazzi arrivano sempre utili. Beh, non necessariamente. Ma dovrei sudare un bel po' per arrivare fra i primi tre. Tutto così. Dei es I-I� Rosa! Just happy days!